Altro Youtube Puro non è un botto allora Youtube Vediamo È pure livello alto però No, alto o ben via Non è un botto Non è quello pure Youtube, cazzo C'è pure con il nick Youtube con la tag, cazzo A portar più Youtube possibile Oh ma è fatta Eh ma c'eva tre personaggi a livello alto Quindi per forza deve essere Allora ragazzi vediamo un po' eh Allora non è qua quindi Ehm, vai Darvi Ehm Qua C'è qualcuna Mi sembra libero libero C'è un generatore qua Ehm Mi tengo Tengo il porco spino, cazzo Il porco spino Oh 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 no sono andate parere il stavolta a dire che c'ho pure l'armi di merda no ma vai a dire un altro ponte si perché noi eravamo dall'altra parte guarda dè ecco no perché dicevo oh ma è un cale in acqua sta andando bella ma che cazzo la cazzo è andato l'altro è qui no vabbè quello è ma sei andato da davvero aspetta no ma tu sei di quella parte eccolo lo vedo lo vedo lo vedo c'è buttato ciao papelo dov'è? è morto? è mortissimo è mortissimissimo mia sta cazzo c'è un 8x qua chi gli serve l'8x ragazzi? a pietro frappi non ce l'ho il bar non ce l'ho il bar non ce l'ho il bar oh oh dietro ho fatto sparo oh non è gruntier' sta arma qua per giubi oh arrivo oh non ce l'ho il bar non mi non mi rinona se vuoi che ti do l'8x no no meno 4 mesi sali scendendo ma lontano non ce l'ho il bar ma l'hanno preso qua veramente qualcuno è stato qua eh hanno lottato? c'è una cressatura aperta un po' un po' hanno preso tutti però eh che cazzo va quello? c'è un po' che spara eccolo sapete che il generatore fa malissimo? si ma sapete che spara veloce? porca puttana ragazzi il generatore fa il bug ma che è? si porca puttana si ma se con lui si è fatto il me la voglio giocare col generatore anche io ma se ha fatto lo scudo viola come cazzo ha fatto? ma siamo sicuri che è un bot? ma si ma si vede come giocano ma vedi come si muove è uno jupiter oh jupiter no mi tengo il generatore ma lo sai che me lo voglio il pelo? me lo voglio provare questo bello tosto ma cosa cosa? però secondo me il support il support ci mette guarda eh chi è? un altro un altro ma tu io sto giocando sai quell'arma che sto usando invece io? è il porcospino cazzo un porcospino? si ah ma c'è il porcospino ah ma c'è il porcospino oh con la moto anche dietro raga ma che cazzo l'ho scammato a te ma quello quello di prima eh cazzo nooo nooo che mira di merda oh pure da qua oh ma che cazzo è? ma che cos'è il tiro avversario? sono tutti i lati si è sbucati ma che cazzo è successo? eccolo laggiù un altro oh poi ho fatto perca ma non col mirino però riesco a berli bene devo stare qua pazzesco cazzo si muove aaaah aaaah sono il reaper quanti uccisione ho fatto ci avevamo uno sotto ma sta pure volando uno c'è sta cadendo di dove cazzo è andato? è andato... è lì eh Eccolo Dai ragazzi venite Aspetta che Guarda madonna come l'ho ammazzato Macchina 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 di questo lato qua Sempre a destra L'ho vista Ma venite ragazzi venite Aspetta che devo prendere un po' di munizioni Che l'ho finita tutta Ragazzi è brutto fai da Fianco destro Fianco sinistro Sono lontani beh Visti E' una squadra Finito l'armo E' che uno è fatto No non c'ho munizioni di niente Ragazzi ce l'abbiamo anche dietro No ragazzi non c'ho munizioni No ragazzi non c'ho munizioni No non c'ho munizioni Ma che cazzo io mi ha tirato Ma che cazzo Ma che cazzo Ma non ho poco spino raga sto ammazzando a tutti Porca puttana Eh un bel laca Non cazzo Non male Abbiamo fatto quelli o no? Sì Eh ne manca uno però No lo vuoi a morto diretto A me c'è su qua A me c'è un bel laca A me c'è un bel laca A me c'è un bel laca Senti mi lascio il porcospino A me c'è un bel laca A me c'è un bel laca Rega provate Rega provate Delle armi Questa è un bel laca Tranquilla Provate una stanza Ma tomanza a tutti A tutti questo cazzo Di arma qua E' solo un 4 per cazzo Ma già vado C'è una c'è un c'è 2x ecco le 4x, te lo do io, te lo do io, te l'ho preso io, scusa l'ho buttato lì il 4x, lo fa prendere ora ok ok qua c'è un 8x se potete no io ce l'ho occhio lì raga dove eravamo prima ci aspettiamo qua al bordo andiamo di qua qua siamo dentro aspetta che stilto aspetta attento vai piano, vai piano ha curato uno porca tro l'ho massacrato raga quello lì che cazzo fa a essere ancora dai un colpo preciso gli manca non ci voglio credo veramente ci serve per un colpo non ho parole ma lo cura adesso a quello forse raga adesso però eh sto vedendo ma vabbè oh un altro po' di munizioni raga oh non mi prende le cuse porco ciuda po' di munizioni eccolo ma che cazzo cazzo ma non c'è il generatore fa le buche eh si guarda che anche il porco spino che sto usando io eh cioè spara un po' però fa danno perchè spara un po' lento non è che spara proprio raffida però non so se fai danni li fa chi è che spara? poi c'è un 4 perle poi c'è un po' tropecio raga quello la non è morto eh eh no è quasi morto eh io tolto tutto un'altra volta sta curando all'infinito cazzo adesso devo uscire proprio di là addio ah è morto adesso vieni 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 ma l'ha ucciso no 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 non è morto ora si ora è morto madonna la cazzo facendo un burro di uccisioni eccoli eccoli lì in mezzo dove? ne ho visti tre almeno eh lì dove ho puntato lì in mezzo davanti ne ho visti tre tipo passare no no prendiamo ma dove sono? sono tutti assieme quelli attento ecco siete di là sono andate visto vedi ciascato uno è già madoo o uno ma che cazzo madoo raga madoo no questa parte è pazzesca uno è rimasto uno ma quanti ne manca? uno uno ah il nostro amico è morto bravo no allora due ah no uno no uno raga uno ah no si 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 sarà un botto questo cazzo ahahah ahahah devo far sesso si tanto andrà lì comunque se una persona ma anche se siamo accorti che quello è morto no ma lo potevamo restare ma non lo abbiamo voluto fare cioè possiamo restare qui ehuu uuuh oh sal troppo sta troppo raga troppo gli aspas per farlo vittima questo è troppo era solo altro io ho massacrato mi chiedo così morto e dentro ma chi sta sparando è lì eh sì, tenete, l'ho tenete sì, ma è un bot anche quello, vai tranquillo sì ma se c'entri dentro se ti piglia da vicino a volte anche poi ti massacrano eccolo che cazzo che ragazzi ha fatto fatto il record di Cigione 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 che pensate, scatenate